aspetta un attimo siamo tutti i clienti lo sappiamo l'imballaggio può essere frustrante per questo Amazon ha introdotto una novità da oggi quando selezioni imballaggio apertura facile invece di questo ti arriva questo che è facile da aprire e riduce i rifiuti collaboriamo con produttori e fornitori per creare imballaggi più semplici perfetti per le spedizioni scarti meno e ti godi di più gli acquisti